Secondo te, chi è un tecno creativo? Chi è un tecno creativo? Cosa dovrebbe essere un tecno creativo? Cioè una persona dotata di grande creatività che però sa quali mezzi usare e quindi usare per poter arrivare a raccontare la propria creatività. Tu ti senti un tecno creativo? Beh sì, io mi sento un tecno creativo non dovrei essere io a dirlo insomma però sì, mi sento tale perché comunque un minimo di capacità tecnica rispetto a quello che è il mondo tecnologico di oggi io ce l'ho. E la creatività? Beh anche quella, è sempre molto presuntuoso parlare di se stessi in questo modo. Sì, la creatività è una cosa che non si sa di avere cioè ce l'hai e quando la metti in atto e qualcuno la vede la classifica come creatività per te forse in fondo poi è una cosa normale. E secondo te parlando di tecnocreatività accennavi prima ai mezzi tecnici quali oggi secondo te sono i mezzi più importanti per un tecno creativo? Beh dipende sempre da che tipo di racconto vuoi fare se stai facendo un cortometraggio la macchina da presa, il montaggio, la luce e sono i mezzi che ti servono per raccontare per raccontare un cortometraggio per creare un cortometraggio se scrivi un libro non dico più la macchina da scrivere perché credo che non ci siano neanche più in giro ma comunque un computer, un software per usarlo, un software adatto non parlo di software di scrittura normale come Word ma di software un po' più complicati un po' più giusti per quel tipo di lavoro quindi ogni tipo di creatività necessita di un mezzo Che è sempre tecnologico in ogni caso Beh oggi viviamo in mezzo alla tecnologia io sono felice di vivere in quest'era mi piacerebbe in fondo anche avere lunga vita per vedere che cosa succederà perché ogni giorno se ne vede una nuova e sono molto affascinato da questo quindi sì, assolutamente sì Grazie È stato un piacere